salve ragazzi e ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi vi devo far vedere una cosa spettacolare allora oggi mi sono fatta un ordine alla aspettate alla piadineria ragazzi non so se qualcuno di voi c'è stato andateci perchè è spettacolare vi faccio vedere quello che ho preso allora aspettate che lo metto qui ok guardate ragazzi guardate mamma mia guardate che buono no raga allora all'interno c'è filetti di di pollo pomodoro, insalata come si chiama? la cosa di allo yogurt maionese penso è avocado raga il mio preferito mamma come si chiama raga è buonissima raga raga come è buono no è uno spettacolo e poi abbiamo preso pure una dolce che dopo vi dico guardate raga madonna mia no vabbè la devo un poco spezzare io però è un po' difficile però me la mangio così mamma mia come è buona io penso che quella dell'ipersanta sia unica dentro diciamo cosa in se rende mamma mia mamma mia è buona buonissima è favolosa proprio l'impasto raga buono mamma mia è buono allora gli ingredienti sono tutti freschissimi raga ma proprio freschi allora la mia è fatta a rollò la vedete non è proprio a piadina è tipo a rollò ma il mango ma il pollo ma vi dico raga è proprio straordinaria buonissima tutto fresco davvero ci vale davvero tanto è strepitoso poi mi ho preso pure come dire no allora un mamma mia ma ci me la voglio far vedere ne abbiamo preso due allora c'è questa che ora come faccio facciamo a capire vabbè insomma uno è alla crema di baci parugina mentre l'altra è al kitty cat quindi c'è praticamente io non so qual è ma dobbiamo vedere c'è questa qui tipo al kitty cat e poi quest'altra alla crema di baci perugina all'interno spettacolo lo potete anche ordinare con il delivery ragazzi quindi è anche buono che ti arriva a casa guardate il mango raga spettacolare spettacolare oggi ci voleva proprio proprio ci voleva allora ce li siamo divisi così abbiamo due gusti raga che noi ci pensiamo a sti cosi allora proviamo questa vediamo questa qual è mi sa questa se riusciamo a capire questo è kitkat si sente perché perché nella cioccolata sono dei piccoli buone però buonissima kitkat la piadina è sempre la stessa buonissima buona proprio buonissima buonissima mentre questo è bacio per un giro proviamo buono 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 questo è buonissimo buono buono io l'ho sempre provata con la nutella invece così mi spettacolo col bacio perugina ma manco col kitkat ma col bacio perugina mai provato ma è spettacolare mamma mia buono buono e poi proprio la parte esterna è molto molto fresca ma proprio veramente ci vale ci vale davvero allora ecco perché è davvero buona perché infatti qua ti dice l'impasto è fresco steso e cotto al momento perciò si sente che è bello fresco raga in calabria l'abbiamo solo noi nel senso che tutta la calabria c'è solo arrende quindi voglio dire raga provatela perché è davvero spettacolare buona buona davvero poi ci sono in tutte le altre parti d'italia ma in calabria siamo solo noi che abbiamo la fortuna di averlo davvero buona se c'è qualcuno che mi segue anche da fuori fatemi sapere se la conoscete la piedineria perché davvero questa è la vi faccio vedere vedete qua poi c'è anche una cosa bella praticamente facendo scannerizzate questo questo codice vi registrate e poi se invitati amici o comunque andate a fare la spesa lì poi ci sono dei punti che li potete poi passare diciamo qua ti dice proprio te lo dice vedi allora scarica la nostra app guadagna punti piada e convertili in sconti quindi è una cosa simpatica questa bella tutta tecnologica ma è bella io sono rimasta proprio soddisfatta raga mamma mia avevo una fame pazzesca e questa mi ha proprio cioè veramente buonissimo pur i pomodori che solitamente nelle piadine sono brutti proprio da gustare però questi erano veramente sono proprio ingredienti freschi e io penso che siano fatti al momento buoni davvero quando una cosa ci vale va detto ragazzi detto questo io vi ringrazio per aver visto questo video ci vediamo domani con un nuovo video vi raccomando non mancate vi mando un bacio grande grande vi auguro una buona giornata ciao ragazzi ciao 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 Grazie.